Colonnese. Chi è che non riesce a votare? Malpezzi. Galperti. Qualcun altro? Carra. Ci siamo? Sembra di sì. Dichiaro chiusa la votazione. 78 favorevoli, 262 contrari. La Camera respinge. Andiamo all'8.02. Colletti ed altri. Colletti chiede di parlare. Prego. Colleghi, il tono della voce, per favore. Grazie, Presidente. Con questo emendamento vogliamo mettere fine al limite delle tre consegne per il concorso in magistratura. È un limite, direi, anacronistico? È un limite che in realtà sussiste solo per il concorso in magistratura e quello notarile, non per tutti gli altri concorsi pubblici. Ce lo chiedono in molti di togliere questo limite perché non ha alcun senso dal nostro punto di vista. Pertanto basterebbe un voto favorevole da parte di quest'Aula per mettere fine a una ingiustizia perché dal nostro punto di vista si può sempre partecipare a un concorso pubblico e non ci devono essere limiti di sorta nella partecipazione a concorsi pubblici. Grazie, collega Colletti. Non ci sono altri interventi. Dichiaro aperta la votazione. Arlotti, Carra, Carloni, Grassi, Zan. Chi altro non riesce a votare? Bene, dichiaro chiusa la votazione. 90 favorevoli, 229 contrarie, la Camera respinge. Articolo 9, chiedo il parere a Guerini per gli emendamenti riferiti all'articolo 9. Cioè è un emendamento... Emendamento 9.1, Colletti e altri, invito a ritiro, parere contraria. E anche per il 9.3, visto che ci siamo, tanto è un aggiuntivo. Velocizziamo, 9.3, Colletti e altri, invito a ritiro, parere contraria. Grazie, Turco. Allora, 9.1 favorevole.